Su Dostoievski, sul nostro grande padre Dostoievski, uno dei grandi perlomeno a livello culturale, letterario e spirituale, sono stati letteralmente versati fiumi di inchiostro, ci sono una marea di ritratti critici su di lui, come su Shakespeare o Dante, insomma è uno dei pochi su cui veramente hanno scritto tutti e si è scritto di tutto. Potremmo citare quello di René Girard, André Gide, sul piano del profilo critico, ma poi in realtà ce ne sono tantissimi di autori che va da sé e si sono occupati soprattutto, se non esclusivamente, del tema religioso, nell'opera di Dostoievski, per esempio Romano Guardini, quindi anche i teologi. Io ho sotto mano tre libri su Dostoievski, uno è quello di Bakhtin, critico letterario russo, è un Einaudi, dal titolo Dostoievski, poetica e stilistica, poi quello di Stefan Zweig, intitolato semplicemente Dostoievski, questo è l'editore Castelvecchi, Stefan Zweig è scrittore austriaco, come è noto che visse a cavallo tra l'8 e l'900, e infine questo Einaudi, come quello di Bakhtin, scritto da Nikolai Berdiaev, che è stato una personalità di spicco della filosofia russa, è intitolato La concezione di Dostoievski. Partiamo da quello di Bakhtin, proprio due parole. Il libro di Bakhtin si segnala per una tesi di fondo, in realtà, soprattutto, che è quella che ha fatto anche la sua fortuna, perlomeno in campo letterario. Bakhtin pensa che l'originalità di Dostoievski come scrittore, come romanziere, sia da ricondurre a un'idea centrale, che è quella che lui chiama polifonia. Per Bakhtin Dostoievski è il fondatore, Foucault direbbe l'instauratore discorsivo, c'è uno che ha fondato una prospettiva nuova, e nel campo del romanzo in questo caso c'è il romanzo polifonico. Bakhtin riconduce l'idea di polifonia alla presenza di coscienze indipendenti e di voci plurime, che sono irriducibili le une alle altre, che secondo lui è una novità assoluta nel romanzo, sia per quanto riguarda la quantità, sia per quanto riguarda la qualità. Prima di Dostoievski non esisteva questo numero e questo genere, questa tipologia di polifonia, questa presenza di voci così diverse e così tante all'interno di un'opera del romanzo, così come lo conosciamo, da Cervantes, Diffaut, Fielding e tutti i pionieri, insomma, iniziatori del genere in poi. Da quello di Zweig invece estraiamo tre piccole pillole, diciamo, che corrispondono ad altre tante sentenze che sono sparse, che colpiscono però, sono sparse qui e là nel suo libro. La prima è la posizione secondo cui Dostoievski, dice Zweig, sarebbe stato il più grande maestro e riformatore dai tempi del Testamento, quindi Zweig ne fa una sorta di patriarca, di statura biblica. Il secondo, Zweig la mette giù così, dice che Dostoievski è in buona sostanza stato il più grande dualista nell'ambito dell'arte e forse dell'umanità intera. Dopo vediamo in che senso questo termine dualismo, il tema del doppio, non di Dostoievski. È un tema antico, ma Dostoievski ha dato una sferzata a questo tema, conferendogli nuove coloriture, nuove sfumature, nuova profondità. E poi la terza, che è la posizione più icastica di Zweig, a proposito di questo grande russo, ed è restituita da una frase, secondo cui, dice Zweig, si entra nei romanzi di Dostoievski come si entra in una stanza buia. Ma non parliamo nello specifico di quei due libri lì, quindi di Zweig e di Bakhtin, ma parliamo di questo qui, di Berdiajev, che oltre a essere il più... ma no, forse il più breve no, perché anche quello di Zweig non è molto corposo, ma sicuramente è il più appassionato dei tre. E questo viene fuori subito, sin dalle prime pagine, anzi addirittura dalle prime righe, perché Berdiajev, sin dalla prefazione, dichiara proprio a Pertis Verbis che Dostoievski è stato... cioè ha avuto su di lui, sulla sua formazione, sulla sua personalità, sulle sue inclinazioni, sui suoi interessi, insomma su tutto, un'importanza decisiva. e insomma la prova definitiva di questo arriva, o comunque insomma a corroborare questa posizione, poche righe dopo ci dice Dostoievski, fa di Dostoievski praticamente la sua patria spirituale, in buona sostanza, proprio testualmente, dice vedo in Dostoievski la mia patria spirituale. Questo aggettivo spirituale è fondamentale, perché ci dà il là per il discorso su Dostoievski visto da Berdiajev, ma soprattutto perché in prima battuta ci smarca dagli altri due libri, perché effettivamente Zweig e Bakhtin, così come tanti altri, si concentrano su Dostoievski, però lo fanno da un punto di vista strettamente estetico, cioè quindi sia Zweig che Bakhtin nella fattispecie vedono innanzitutto che in Dostoievski è un gigante, sì, come insomma chiunque si sia imbattuto in lui nel campo delle lettere, ma un gigante a livello estetico, cioè un gigante del romanzo, un gigante della prosa romanzesca, e quindi dell'arte, mentre invece Berdiajev ne fa sostanzialmente un filosofo, cioè esamina l'opera Omnia di Dostoievski, beh magari non i racconti, ma insomma tendenzialmente i romanzi, ma nel loro insieme, quindi se escludiamo la prima parte della produzione, le noti bianche, povera gente, eccetera, però quasi tutti in realtà, li prende in considerazione Berdiajev, da un punto di vista pneumatologico, cioè quindi pneuma vuol dire spirito, quindi dal punto di vista esclusivamente spirituale, per Berdiajev e Dostoievski è innanzitutto, forse prima ancora, un romanziere paradossalmente, perché questi non sono romanzi, ma un pensatore, se lui lo definisce il più grande metafisico russo, forse addirittura il più grande filologo russo Tukuro. Per mettere a punto, per delineare l'originalità di questa grande figura, lui si serve più di un'occasione di una comparazione, cioè lo mette a confronto con Tolstoi, che con tutta evidenza Berdiajev non ama moltissimo, comunque lo ama meno, di Dostoievski, non che neghi i suoi meriti, insomma, non è così scopertamente fazioso, diciamo, però anzi al contrario, non si dice addirittura che sul piano del romanzo, cioè sul piano puramente estetico, i romanzi di Tolstoi, dice Berdiajev, sono i più belli del mondo, quindi sul livello che è quello dell'arte Tolstoi non avrebbe rivali, però fa una critica di fondo all'arte di Tolstoi e in generale alla sua figura. Cioè, secondo Berdiajev, Tolstoi non si sarebbe mai mosso dall'ambito dello psichico corporeo, quindi, e questo è il motivo, secondo lui, per cui, cioè è vero, ci dice, Tolstoi ha cercato Dio per tutta la vita, eccetera, però A è stato un cattivo teologo e B non si è spinto in profondità in quel campo che è il dominio, appunto, cioè è l'abisso dentro il quale si spalanca, solo si spalanca il divino, a cui può essere attinto il divino e con esso anche l'umano, che è quello che invece viceversa ha raggiunto e ha esplorato Dostoievski. L'idea di fondo, proprio a livello di poetica, insomma, per riprendere una categoria di Bakhtin, per quanto riguarda Dostoievski, secondo Berdiajev, è data dal fatto che il cuore pulsante dell'opera di Dostoievski è il rapporto tra l'uomo e il suo destino, dice Berdiajev, perché questa è una grande intuizione di fondo del suo libro, cioè lui dice che Dostoievski non si è mai mosso, ma perché non ha mai avuto bisogno di muoversi dall'antropologia, cioè quello che gli interessa e che l'ha sempre interessato è l'uomo. Però la grandezza, uno dei motivi della grandezza di Dostoievski, secondo Berdiajev, è che pur restando interamente nell'ambito dell'antropologia, è riuscito a lavorare una teodicea. Dopo vediamo, perché c'è la questione del problema del male. Quindi non ha mai sentito l'esigenza di traghettare in qualche modo il suo discorso a livello letterale, non solo, cioè a sfociare nel teologico, cosa che invece dicevamo l'ha fatto Tolstoi, perché Dostoievski appunto non era un teologo. Però ha risolto il problema, quello che è il suo problema di fondo, il suo rovello di fondo, che è quello della libertà dello spirito umano, restando tutto all'interno del dominio dell'antropos, quindi dell'uomo. Quindi questo è interessante e paradossale insieme, perché appunto da un lato lo definisce il più grande metafisico russo, dall'altra parte però è un metafisico che non specula, i metafisici speculano sempre, sono dei teoretici in qualche modo. Invece lui è, cioè Berdiajev ci dice Dostoievski è il più grande metafisico russo, ma allo stesso tempo è un antropologo. In che senso antropologo? Nel senso che per Berdiajev Dostoievski è innanzitutto un grande studioso della natura umana. E a questo proposito divide l'opera, la sua opera, cioè l'opera di Dostoievski, la divide in due, cioè individua un grande spartiacque all'altezza delle memorie del sottosuolo. Cioè ci dice lui, fin qui, fino alle memorie del sottosuolo, Dostoievski è stato innanzitutto uno psicologo, per quanto geniale, e uno scrittore, lui dice, umanitario. Cioè fondamentalmente un uomo che con la penna ha raccontato le sue storie, citavamo prima un paio di titoli, povera gente, anche il titolo eloquente, delle notti bianche, insomma molte altre cose, ma che, come dire, i cui slanci erano rivolti al popolo russo, alle figure, gli umiliati, offesi, e così via. Pensiamo ad esempio a un'opera come le memorie di una casa di morti, cioè che Dostoievski viene condannato, viene internato in questa casa di correzione, e lì scopre il famigerato popolo russo, quindi criminali, tutto il sottobosco di piccoli e grandi delinquenti a cui gli fa scoprire un'altra Russia che lui non conosceva, e che per esempio Dostoievski non avrebbe mai conosciuto se non dall'alto, in qualche modo, della sua estrazione aristocratica. Ecco, a questo livello, ci dice lui, fino alla memoria del sottosuolo, Dostoievski rimane uno scrittore umanitario e uno psicologo. Con l'uomo del sottosuolo avviene il salto, ci dice Berdi Haif. Qui, se di umanitarismo si può ancora parlare, non è detto che se ne possa parlare, ma a me se non concesso che si possa ancora parlare di umanitarismo, e quindi una sorta di afflato verso gli umiliati offesi, tutti quegli slanci che erano tutt'uno, facevano corpo con le opere pre-memoria del sottosuolo, Dostoievski, laddove per manga è comunque un umanitarismo di tipo diverso, dice Berdi Haif, quindi dalle nuove venature, un umanitarismo tragico, fondamentalmente. Ma la cosa più rilevante, secondo Berdi Haif, è che con le memoria del sottosuolo comincia un percorso, che è quello che poi, con tutta evidenza, a Berdi Haif interessa il secondo Dostoievski, quindi quello che comincia con l'uomo del sottosuolo, comincia un cammino diverso, cioè il cammino, quello che lui chiama il cammino dell'uomo nella libertà. E questo, a partire da qui, arriva a compiersi su su fino ai fratelli Caramazo, che è il suo capolavoro definitivo, è gli occhi di Berdi Haif, la vetta proprio, in tutti i sensi, quindi estetico, antropologico, spirituale, e in particolare nella leggenda del grande inquisitore. solo che, ovviamente, a partire da qui, ci sono tutta una serie di snodi, di passaggi fondamentali, qui non possiamo ripercorrerli tutti, perché sono tante le cose che vengono fuori. Ad esempio c'è una pagina molto bella, che però ci porterebbe un po' fuori, in strada, in cui lui mette a confronto Dostoievski con Dante e Shakespeare, e quindi fa una sorta di piccolo, quella è una sorta di schema dello sviluppo dello spirito umano, a partire da un ordine gerarchico che è esterno, che è quello di Dante, poi arriva Shakespeare che scopre le passioni, e infine arriva Dostoievski che immerge le mani nel demoniaco, e quindi rivela un'altra dimensione della sfera umana, che prima non era stata attinta, ma insomma lasciamo perdere, perché poi, quando si comincia a fare i confronti quei grandi scrittori poi si aprono parentesi che durano ore, ma insomma, una delle affondi più affascinanti che aveva Berdiajev e che possiamo ricondurre a quello che dicevamo prima, cioè all'interesse principio di Dostoievski, cioè il rapporto tra l'uomo e il destino, il suo destino, il destino dell'uomo, è l'idea di convergenza, cioè Berdiajev divide, in qualche modo i romanzi di Dostoievski, tra le romanzi che si avvalgono di una forza che lui chiama centripeta, sono categorie della fisica, ma insomma adesso vediamo in che senso, e un'altra centrifuga, cioè lui dice, posto che in Dostoievski il cuore, dicevamo, antropologo, quindi il punto è sempre l'uomo e l'umano, ci sono sempre nei suoi romanzi delle figure, una figura centrale, che incarna l'enigma, il mistero, qualche cosa che va decifrato, e verso cui tutto converge, e fa l'esempio dell'adolescente e dei demoni o demoni, quindi Versilov, o Versilov, o Versilov, non so come si dicano gli accenti in russo, e dall'altra parte Stavrokin, che dice Berdiajev, sono figure verso cui tutto appunto converge, compresa la curiosità del lettore, che investe, che carica anche di simbolismo, di tutto quello che può caricare queste figure a discapito delle altre, e che sono figure, dice Berdiajev, che finiscono per far orbitare intorno a se stesse tutti gli altri personaggi, quindi in questo senso è centripeta, cioè attirano verso di sé tutti gli altri personaggi e in generale tutte le energie, il dinamismo interno del romanzo, converge verso di loro. Dall'altra parte qui cita l'idiota, Berdiajev, il principe Miskin, siamo al corno opposto, qui si deve parlare di forza centrifuga, perché Miskin, anziché far orbitare intorno a sei personaggi, si irradia verso di loro, dice Berdiajev, cioè in qualche modo si distende, è proteso verso gli altri, però il punto è sempre, secondo Berdiajev, in virtù di questa concezione dell'uomo come centro di tutto, l'umano e il divino come due facce nella stessa medaglia, che c'è sempre una figura centrale di fatto dentro i suoi romanzi e sia che gli altri convergano, sia che lui, come il principe Miskin dell'idiota, si irrade, si distende verso gli altri, il punto è che c'è sempre una, verso cui in qualche modo che accentra un po' un po' tutto. Però dice Berdiajev con delle eccezioni, una che è notevole, che è quella di delitto e castigo, cioè dice Berdiajev, in questo caso in realtà, insomma con le eccezioni ci sono sempre, qui non è una sola figura, uno potrebbe dire, ma come, c'è Raskolnikov, sì è vero, però secondo Berdiajev in questo caso c'è quello che fa la cifra di questo romanzo qui, non è questo genere di convergenza che abbiamo appena menzionato, ma dice lui, l'atmosfera data dalle correlazioni umane, quindi dal modo in cui le relazioni umane all'interno di questo romanzo creano una determinata temperatura che è quella che fa l'intensità del romanzo. Questo sul piano operativo, diciamo, del dinamismo, delle energie, di come si muovono, di come convergono, verso dove convergono, ma sul piano appunto prettamente tematico, dice lui, e qui torniamo alla divisione della sua opera in due, a partire dalla memoria del sottosuolo, è la questione della libertà, cioè, secondo Berdiaev, il cammino dell'uomo nel Dostoevsky maturo inizia con una ribellione, cioè l'uomo del sottosuolo rivendica la propria libertà con un atto che nelle intenzioni vuole essere assoluto e che è tutt'uno con quella che, secondo Berdiaev, è una delle grandi scoperte di Dostoevsky in relazione alla natura umana, cioè il fatto che l'uomo del sottosuolo rompe con l'intento che era durato fino ad allora, insomma, più o meno, cioè fino a Dostoevsky, e che lui per la prima volta esplicita, cioè con tutta quella tradizione che rivendica una sorta di armonia in rapporto, comunque di una sorta di organizzazione razionale in rapporto all'anima propria, all'anima dell'uomo e alla sua relazione con il mondo. Ecco, con l'uomo del sottosuolo invece emerge una cosa che non era stata mai posta con questa radicalità prima, cioè il fatto che appunto l'uomo sotterraneo rompe con qualsiasi tipo di organizzazione razionale, con qualsiasi tipo di armonia rispetto alla propria interiorità e al suo rapporto col mondo, no? E quindi anche, questo potremmo aggiungerlo noi, cioè non è più solo la questione di ascendenza paolina, pensiamo a San Paolo, no? Cioè l'idea del io cerco il bene ma finisco per compiere il male, no? al Faust di Goethe. No, qui è addirittura che l'uomo cerca in qualche modo ciò che gli potrebbe far male, quindi va addirittura contro il proprio stesso benessere, no? E dice Berdiai che questa cosa è Dostoevsky che la scopre con così grande forza, cioè la pone apertamente, scopertamente a un livello proprio discorsivo, no? Prima era una cosa che rimaneva appunto non esplicitata, Magari qualcun altro potrebbe aggiungere che Freud poi completerà il discorso, ma questa è già un'altra, insomma, un'integrazione, una nota a piedi pagina. Ecco, quindi Berdiai vede, diciamo, Dostoevsky come uno studio della natura umana e a livello della libertà questo però comporta tutta una serie di passaggi perché esaminando in questa maniera qui, cioè come le memorie del sottosuolo come inizio di questo tipo di cammino quindi l'uomo che si mette in cammino verso una libertà che solo con Icaramazo e quindi con la leggenda del grande inquisitore avrà il suo compimento e in qualche modo il suo senso quindi il suo approdo definitivo in termini di visione di concezione dell'uomo questo fa sì che debba passare attraverso tutta una serie di stadi intermedi che poi sono dati dai romanzi quelli tra appunto tra le memorie del sottosuolo e Icaramazo quindi insomma tutti i grandi romanzi di Ostoieschi i demoni o demoni e così via e l'adolescente eccetera e appunto partire da qui qui c'è un'altra idea un altro un altro punto interessante che si potrebbe prolungare in mille rivoli cioè quello che pone Berdiae laddove sostiene che nel momento in cui l'uomo del sottosuolo si rivendica la propria libertà finisce per precipitare da una rivendicazione assoluta cioè di una libertà illimitata in un dispotismo illimitato e lui legge alcune opere di Ostoieschi per esempio il delitto e castigo quindi l'omicidio di Raskolnikov in questa luce qui e questa è un'idea praticamente stimolante perché in realtà poi cioè si può intrecciare cioè questa intuizione di Ostoieschi ha molti punti di contatto con tutta una tradizione che si afferma anche nel Novecento e che magari ha altri agganci un po' di mesi fa abbiamo parlato del salò di Pasolini per dire e lui è vero che si rifà SAD per strutturare i gironi danteschi il girono del sangue il girono della merda eccetera eccetera per parlare della civiltà dei consumi però quest'idea di una ricerca della libertà illimitata quindi senza vincoli poniamo stando dentro Dostoieschi l'omicidio di Raskolnikov una vecchia usuraia come dire io mi libero di un vincolo perché ho i miei obiettivi eccetera eccetera si rovescia in una specie di delirio alla fine al di là della questione del castigo della colpa di tutte queste cose qui ecco Pasolini prende SAD però Pasolini che dall'altro era un lettore di Dostoieschi lo amava molto possiamo trovare anche in Dostoieschi di quest'idea cioè io abbatto un vincolo rivendico una certa forma di libertà che è quella per lo meno idealmente di una appunto illimitata e questo si rovescia però in una sorta di dispotismo cioè di una negazione della libertà se non in termini esteriori ma in termini di annichilimento dell'interiorità di scompensi che hanno a che fare con un'anima sempre più ripiegata su se stessa che poi in delitto e castigo assume tutta una serie di risvolti a livello della trama quindi appunto questo e il passaggio successivo o perlomeno già implicito in questo è il passaggio attraverso il male dice Berdiaeve e qui siamo un altro nodo fondamentale dell'opera di Dostoieschi cioè la presenza del male che attraversa tutta l'opera di Dostoieschi e che costituisce Berdiaeve la mette in questi termini la sola ma anche qui è difficile da confutare la sola obiezione in Dostoieschi contro e verso Dio perché esiste il male ovviamente qua se uno presenti Caramazo la questione del male il dolore dei bambini tutte queste cose qui quindi Berdiaeve arriva a dire che il tentativo la risposta a questa obiezione perché il male è rivolta verso Dio è ciò a cui tutta l'opera l'intera opera di Dostoieschi cerca di fornire uno sviluppo quindi è come se tutto ruotasse intorno a questa questione qui del male quindi l'intento anche di Berdiaeve attraverso questo libro è di riunire in un unico sviluppo tutta una serie di centri che però si richiamano l'uomo e il suo destino la libertà il male e poi altre che vediamo fra un attimo e con l'attraversamento del male ci dice Berdiaeve succede un'altra cosa che è fondamentale cioè lo sdoppiamento quindi nel momento in cui io faccio un'esperienza radicale profonda del male non rascolnico uno dei tanti personaggi che si potrebbe citare mi sdoppio e in effetti dice Berdiaeve tutti i grandi eroi d'Osterieschiani sono dei personaggi sono degli uomini scissi profondamente divisi dimidiati sdoppiati e quindi passare per il male implica sofferenza e qui c'è l'altra grande idea che anche questa ha molti rivoli perché poi tanti studiosi o anche pensatori l'hanno ripresa cioè il passaggio attraverso il male il male dentro di sé il male fuori di sé e questa idea centrale in Dostoevsky che è immediatamente rilanciata da questo sdoppiamento attraversamento attraverso il male che sia sempre la sofferenza che che qualifica l'uomo e che quindi lo redime in qualche modo c'è c'è un aforisma di Emil Cioran che riprende proprio un affare di Dostoevsky e la cita cioè lui dice l'intelligenza nasce dalla sofferenza chiude virgolette e Cioran nel suo consueto modo provocatorio dice aggiunge gli uomini si divino in due quelli che l'hanno capito e tutti gli altri quindi ecco anche Berdiaio falleva su questo cioè l'idea che la sofferenza in Dostoevsky non sia solo un escamotage che renda conto del fatto che insomma vivere significa anche soffrire no ma è qualcosa di più cioè è qualche cosa che che solo ci consente di arrivare a tutta una serie di ma diciamo risultati anche se sono termini inappropriati ma di come dire di nuovi di nuovi trapassi di nuovi approdi che testimoniano di un'evoluzione profonda in senso spirituale in senso spirituale dell'uomo come si esce da questo sdoppiamento e qui arriviamo a un altro nucleo tematico fondamentale perché secondo Berdiaio l'unico modo e questo secondo lui i romanzi di Dostoevsky lo dimostrano è l'amore c'è un capitolo che si intitola così nel libro di Berdiaio l'amore che è scelta cioè quindi scegliere di amare è l'unico modo per ricomporre questa personalità scissa che caratterizza i grandi eroi i grandi eroi di Dostoevsky e in questo senso lui arriva in una delle parti dei capitoli finali arriva fin su a quella che lui chiama la vetta dell'opera di Dostoevsky che è non solo di Caramazzo ma proprio la leggenda del grande inquisitore e quindi anche qui è interessante questo tipo di cercare di leggere questa pista interpretativa che è da Berdiaio perché di nuovo come dicevamo a proposito di un altro tema e quindi di un'altra angolazione anche questa è di fronte paradossale perché fare come fa Berdiaio cioè sostenere che la vetta è insomma anche condivisibile ma ha delle conseguenze che la vetta dell'opera di Dostoevsky è la leggenda del grande inquisitore e leggere questo alla luce di quello che abbiamo appena detto cioè del fatto che in quanto coronamento implica una scelta che sola può ricomporre questo doppiamento dei suoi eroi cioè il saggio di René Girard su Dostoevsky si intitola proprio Dostoevsky dal doppio all'unità significa in qualche modo rilanciare una questione di fondo cioè il fatto che se in Dostoevsky potremmo dire l'amore è l'ultima parola quella parola definitiva sull'uomo e sull'essere e sul mondo perché è ciò che solo può ricomporre quest'anima ferita scissa sdoppiata eccetera eccetera è anche vero che in Dostoevsky è di necessità l'ultima parola è una parola che è senza parole perché posto che appunto la leggenda del grande inquisitore sia davvero la vetta come sostiene Berdiaev il cuore di questa piccola parabola incastonata dentro il caramazo chi l'ha letta se lo ricorda è un Cristo che tace quindi è un Cristo compassionevole è un Cristo amorevole che però non dice niente che sta in silenzio dall'inizio alla fine come a dire il segreto della libertà non è qualcosa che io posso comunicare a parole cioè non te lo posso restituire in un discorso in un discorso con il logos diciamo né con argomenti ma anche solo con il linguaggio verbale in effetti il Cristo Dostoevsky appunto tace dall'inizio alla fine di fronte al grande inquisitore che lo incalza ora questo libro di Berdiaev non è un libro perfetto impeccabile all'inizio alla fine per carità è un libro anche molto cotibile in realtà lo si legge anche velocemente perché poi Berdiaev è una prosa molto scorrevole accattivante insomma non è un capolavoro ecco non è forse non è l'opera migliore o una delle opere migliori che si è mai stata scritta su Dostoevsky anche perché poi è disorganica è indisciplinata come lo era il suo autore e come sono anche altre opere di Berdiaev che era sempre così poco sistematico a volte per esempio la seconda parte perde un po' di smalto per certi versi in cui si sente che si ripete un po' però Berdiaev aveva questa questa grande capacità che gli va riconosciuta e che in qualche modo ci ci consente di sopravvanzare gli eventuali piccoli grandi difettucci di questo stesso libro cioè la sua capacità che è innegabile di di farci arrivare al cuore di Dostoevsky della sua opera con frasi che sono che sembrano quasi sentenze cioè che suonano sempre che sono sempre secche e potenti e ce n'è una che si staglia proprio sulle altre che è nella prima parte non a caso del libro che suona tipo dopo Dostoevsky dice Berdiaev tutto sembra insipido il che insomma è abbastanza vero è abbastanza vero